A Terlizzi nasce la Biblioconvivialità delle Differenze, è il progetto vincitore del bando Orizzonti Solidali della Fondazione Megamark ed è allestito nelle officine creative della Cooperativa Sociale Zorba. Siamo andati a vederla. Si chiama Biblioconvivialità delle Differenze, nasce a Terlizzi nello spazio di officine creative della Cooperativa Sociale Zorba, progetto vincitore del bando Orizzonti Solidali della Fondazione Megamark. Un progetto elaborato in rete con le edizioni La Meridiana che vede la cultura delle diverse popolazioni migranti dell'est, tra cui quella ucraina e del sud del mondo, protagoniste dei processi di conoscenza e integrazione per quella convivialità delle differenze appunto che Don Tonino auspicava come Orizzonte della Pace. Noi abbiamo voluto affrontare questo tema attraverso i libri e la lettura, perché crediamo che i libri siano uno strumento primario per l'educazione delle giovani generazioni e di tutti, che siano il nutrimento principale, anche uno strumento di elementi, anche uno strumento di libertà, perché aprono le menti alle differenze, alla conoscenza e quindi sono uno strumento di pace per eccellenza. Questo progetto ha previsto l'allestimento di questo spazio qui all'interno di Officine Creative che è una vera e propria biblioteca con diversi scaffali e titoli sulle tematiche della pace. Siamo stati scelti vari titoli, varie tipologie di libri con diverse tematiche, infatti la nostra catalogazione è una catalogazione per tematiche. Abbiamo scelto dei libri che parlano della pace, la tematica della pace è molto attuale oggi, pace e guerra. Uno dei titoli che abbiamo scelto nel nostro catalogo è appunto l'Aquilone della pace. L'Aquilone della pace è una storia fantastica che parla appunto della pace e ha un valore aggiunto perché la traduzione del libro è bensì in quattro lingue, in ucraino, in russo, in cinese e in inglese. Questo proprio per andare anche ad integrare le eventuali famiglie giunte sul nostro territorio ma anche per aprire gli orizzonti dei nostri bambini. La biblioconvivialità prevede una serie di attività che andranno avanti fino al prossimo aprile. Secondo appunto una programmazione di attività rivolte sia ai bambini, con laboratori di lettura, ludico, ricreativi, sempre orientati alla lettura e anche attività invece rivolte agli adulti, ad insegnanti, genitori, educatori di animazione alla lettura.